eeeh benvenuti al suo video su un boxstock siamo qui su questo nuovo video di gamebook 6 si è importante al tempo siamo con magica e fiolaccia bellaaaaaa scusate ma non mi si è avviato il video raga raga vogliamo ricordare come questo gioco? allora che figa da ombreon lì tirao drone si fa sbaglio tutti i lavoroni lì i tavoli e i granati vado col drone vi apro la mamma col drone ma ti aggiungo col drone no? fermi tutti fermi tutti è fuori è fuori è fuori è fuori è fuori è fuori fuori il piatto la clamor calmi calmi dai bastardo esci e vai eeeh eeeh aaaah ottimo 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 direi eh era lì io agini ok ora si c'è il prossimo round e il polomira raga ragazzi si iscrivetevi dal canale di questo tipo che capito perchè non sa montare i video non c'è computer beh ci sta tante persone che conosco eh pianola pianola e sorella di manola vabbè li prendono tutti in bocca eh lo so che ti seggio nel video eh donna graina sotto la bocchina eeeh 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 bene io ottimo ottimo direi avrà la storia che è una rimposta di roma mamma allora che diamo qua è stato tutto è stato è stato giocato eeeh 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 c'è un altro qua non so che si vede la fama si deve essere ottimo guardate la gara qua su casa ottimissimo salata rossa dei capelli eh non ce l'ho di ste cose qua è vero vero guardatevi buoni il suo aspetto molto molto intelligente ciao io sono nollo ma il collo mamma eh rossa dei capelli oh merda no io sto si daga nemici lì eccolo che è stato attivato che è stato attivato che è stato attivato un caricatore minchia che che kill conoscevo un ragazzo che si chiamava Bellofigo e poi la parlava poco non pagava tipo ve lo sono andato in banca con la mamma ho visto Bellofigo che sono qua davanti a me ma anche sto un attimo riguardo no forse corca margherita non ci credo oh no come amore io ho fatto un po' notti molto per me mi vuole cilera quella porta di c'è l'editana vita per te ne da pensavo per per c'è da vivo cap canna reno da qui da qui guardo bigone da qui addio vi vuole addio un like una preghiera raga dis iscrivetevi da bibone che ha 200 iscritti e non so neanche edita i video vabbè al massimo li taglia se pio mi nonna mi dice metti uno è stato meglio no ti va pregato fiuzzi ah scusi bravo raga senza inducio col fiducio con seduto comprate anche voi coca cola no pubblicità dai comprate anche voi una pianola ce l'ho la sorella di manola schia per cucina la rossa donna ucraina sempre non sempre la piscina non è che c'è i balli ucraini no per capire non è che cazzo le fanno ucraini che me la cerca a casa cazzo le fanno la mia vita non mi fa un giorno mi ha dato il giorno il motore c'è un grande scritto in questo c'è un grande scritto in due canzone ucraina e grande immagino per capo di un genitore di un pavere e l'accento di gbp grani andiamo avanti duecento scritti e due giorni non sono non è poco ma sicuro telecamera di merda esplode ehi 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 spacchiamo qua facciamo attacco stelto marverna pagano noi sono e quest'anno vuol di sparo dappertutto e non faccio senso da piazza rifiugio non lo so piazza sulle finestre ma la c'è sta il casto no vai allora eeeh 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 oddio ma roba non colpo che serve termico eccolo lezzo eeeh andrea vai le cattiferia attendo eeeh 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 andrea vai le potenza eeeh odio caga legge le lingue la porta lì c'è 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 è libero libro 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 ma mi è libero e vai staccare ma stanno tutti dentro non è vero c'è la sinistra c'è la sinistra sinistra dentro il bagone no dai vabbè non devo l'arretta mai con la sinistra sinistra dietro a questo bambone dove questo ma non stava retro bambone c'è un bambone o la madonna c'è l'uso visto io la canna di giocato quando lui quando il fucilotto vorrei ma non avvengono un murino vivo nella mia mira che mi vuole ma con le amore e ponzo stella di donna ma non si ingazza si muore per primo un po non c'è yoga e il suo muore vabbè io moro perché quella pianora è sempre più puttana io sono lollo dal copyright vivo difendite la stanza o merda e domaggia con la verifica ancora le 8 e c'è le unici forse sono bene come vita allora per farlo ma ci italiani no 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 che si stanno con la verità non sapete ma raga barricate fa io ho il super non ho usato le aiema con le vide ormatti naga una qua una qua ragazzi una qua 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 daga le porte le porte le porte le porti tutto quello che vuolono pubblicare ho con una qua 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 io Maggi mo' ce lascia guarda eh Taglia pure questa Qua giugno è a nord o? No ti ammazzo subito con o Perda lì Aiuto 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 La figale mamma da tagliale Nooo Abbiamo perso eh Ma dai mi pare che eravamo Una madonna Eh io non lo vedo sotto lo vedo sotto che lo so spostato Stati giottendo Ti può arare Mamma mia per fa un culo con me non aveva notte Ma è l'altro Ma è l'altro C'è l'altro Ma è l'altro E' l'altro Missi Missi Ote Guarda Un'ha!